Ciao Ricci e Afro, dite benvenuti o bentornati nuovamente sul canale Se tu ancora non mi conosci ed è la prima volta che mi stai guardando Il mio nome è Berenice e questo è un canale dedicato alla cura dei capelli Ricci e Afro Allora, oggi come state vedendo dal titolo Non staremo insomma testando prodotti Facendo maschere capillare per poi niente Oggi starò mostrandovi tutto quello che ho comprato al supermercato Che ha comunque a che vedere con la cura della persona, con la cura del corpo E quindi video haul Oggi c'è un video haul e queste sono più o meno tutte le cosette che vi devo mostrare Allora, iniziamo subito cercando di trovare lo scontrino Eccolo qua Come vedete dallo scontrino sono stata a Lidl E quindi ho approfittato per comprare alcune cosette di cura del corpo Me lo tengo qua vicino Inizio per mostrandovi Allora, le cose che generalmente insomma tutte noi donne usiamo E alcuni uomini E il detergente intimo Questi venivano un pacchetto di due Quindi è veramente una promozione due al prezzo di uno E praticamente questi due mi sono costati Andiamo a cercarli E tre euro e quarantanove Quindi due per tre euro e quarantanove Ho scelto quello con la formula freschezza E diciamo Ma c'era anche un'altra formula Se non mi ricordo era quello chili rosa Questo verde mi chiama più l'attenzione perché mi sembra più tipo la menta Qualcosa di che richiama il fresco E ognuno porta 200 ml E qua ne avrò per un bel po' insomma di tempo Andiamo al prossimo prodotto Ho visto che c'era una linea praticamente di Sien La linea Sien di Aloe Vera Mi ha chiamato tantissimo l'attenzione E quindi ho comprato Come potete vedere qua Ho comprato queste creme mani All'Aloe Vera Dice Aloe Vera 100% 100 ml ognuna 2 al prezzo di uno Il prezzo di queste creme mani Sono 2,99 euro Quindi 3 euro Due bottigliette di 100 ml ognuna Di crema di Aloe Vera Qua praticamente Quello che sono gli ingredienti È abbastanza accettabile E quindi questo lo starò testando Anzi Andiamo ad aprire alcuni prodotti Perché secondo me Sarebbe buono Odorare E vedere come sono alcuni prodotti Ecco qua La forbice Mi sono munita di forbice Per togliere Questa carta che c'è qua Perfetto E la cosa che vorrei Fare È odorare Un attimino Vedere come sarebbe La consistenza E l'odore Vediamo qua Non mi esce niente ragazzi Non lo so Un po' se Spingo Niente Vediamo magari La La chiusura Ecco qua C'era la chiusura Per quello Non mi apriva Giusto Perfetto Non è un olore buono L'olore mi piace Comunque Quindi Mettiamo un po' di Crema Come vedete Bianca Molto cremosa Non mi sembra appiccicosa Per niente Quello si Sembra molto rinfrescante Mi dà la sensazione Di Di freschezza Nella Nella mano Si distrugge bene Non lascia Appiccicamenti Non è Lucicosa Tipo che Sembra La La frigitrice No E l'odore è buono Quindi Questo veramente Essendo che In questo periodo Di coronavirus Anche Comunque Io tendo sempre Avere le creme Per le mani Però Comunque In questo periodo Di coronavirus Bisogna Irratare tantissimo Le mani Essendo che Li stiamo sempre Lavando Molto spesso Questo l'ho visto Che erano 100% All'olio vera E mi ha chiamato Moltissimo L'attenzione Ovviamente Poi Voglio inserire Qua nel canale A fine mese Oppure Quando finiscono I prodotti Faccio i video Di prodotti Terminati E opinione Personale Un'altra Cosa Che ho comprato Di questa linea L'oe vera E questo Sapone Ok Di quelli Di quelli Duri Ecco qua Pastica Che è sempre L'oe vera 100% Eccolo qua Vedete la scatolina Ed ecco Il sapone Qua C'è una sorta Di protezione Di gusta Giustamente Qua Così E io voglio Comunque Toglierlo Perché Voglio un attimino Odorare L'oe vera Mi piace Non è che mi richiama Tanto l'aloe vera Però mi piace È molto trasparente Come potete vedere Non so se è riuscito A vederlo Perché io Adesso contro luce Riesco a vedere Le ombre Delle mie dita Però vabbè Comunque Questo è il tamagno Sono 125 grammi Di prodotto Io questo Perché l'ho comprato L'ho comprato Perché volevo testarlo Come sapone Per il viso Per insomma Per il dopo trucco Pulirmi il viso Quindi Ho detto Vediamo un po' Com'è Com'è Quando l'istruzione Dice Sien sapone Con aloe vera E glicerina Detegge la pelle E grazie all'olio di cocco Ma quindi Ha pure al suo interno Olio di cocco Dona morbidezza Alle pelli secche Ottimo allora Per le pelli secche Tolerabilità cutanea Dermatologicamente testata E evitare il contatto Con gli occhi Insomma Come succede sempre Con tutti I saponi Con la maggior parte Dei saponi Ed eccolo qua Quindi ha anche Olio di cocco Questo starò testandolo In questi giorni Appena lo finirò Vi farò sapere Cosa ne penso Il prezzo Però che non vi ho detto Il prezzo Allora Il prezzo di questo Il prezzo di questo sapone Sono 2,99 euro Quindi sono 3 euro Il sapone Un'altra cosetta Per abbinare insieme A sapone Che appena l'ho visto Ragazzi Sono saltata Di felicità Cioè Prima sono saltata Di felicità Dopo ho detto Vediamo un attimino Come Qual è il prezzo Di questo prodotto Sono queste Dischetti Struccanti Allora Prima di Il prezzo Non spaventatevi Ragazzi Non spaventatevi Perché sono sicura Che appena vi dirò tutto Andrete a Lidl A controllare Ok Vi dico Che questo Viene in questa confezione Così molto carina E sono Dischetti Per strucco Eccole qua Sono super morbidissime Sono 7 Sono 7 dischetti 1,2,3,4,5,6,7 Sono di una morbidezza Tremenda Sono super finissimi Perché guardate Questo nero e bianco Sembra tutto Molto chic Molto bello Queste ovviamente Non si buttano Uno si strucca Con questi Poi li lava E poi li stende E li tira Più possibile Vedremo poi Quanto dureranno Questi dischetti Per struccare Hanno al loro interno A parte di questa Di questo materiale Così tipo Tovaglietta Molto morbida Al naso interno Una sorta di spugnetta Per quello che riesco A sentire Eccoli qua E quindi Veramente Mi ha chiamato Moltissimo l'attenzione E ho preso Una confezione Perché mi sembrava Più che sufficiente 7 dischetti In una sola confezione E ottimo Presto Allora Andiamo al presto Allora Dischette Struccanti 4,99 euro Quindi 5 euro Questo pacco Completo Di 7 Ditemi se non è buono Ditemi nei commenti Se non è buono E passate comunque Al vostro Lidl Questa verrà Nella parte Delle cose scontate Quello vero Poi a presa in sera Non so quale sarà Il prezzo intero Però comunque 4,99 euro E' molto molto buono Sono 7 Dischetti Per Strucco In microfibra Adesso sto leggendo qua Che è in microfibra Lavabile E riutilizzabili Pulisce Con solo acqua Quindi è l'ora di lavarla E Lavatela con l'acqua Togli anche il trucco Ottima 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 Questa ora Leggendo se c'era Qualche modo Più specifico Allora Insomma Di Pulire Questi dischetti I dischetti Per il trucco Puliscono delicatamente Il viso E sono adatti Anche alle pelli Sensibile La formula circolare Consente di tenerli Agevolmente in mano E si adatta perfettamente Ai tratti del viso Potete utilizzare Il dischetto Anche con i vostri Dettegenti preferiti Per quello Ho deciso Da pinare Dischetto E sapone D'aloe vera Perché L'aloe vera È molto Irratante Per il viso Sarebbe una buona opzione Visto che c'è anche L'olio di cocco All'interno Veramente Sarà un combo Che starò Utilizzando L'ultimo prodotto L'ultimo prodotto Non so se l'avete visto Quando l'ho preso L'ultimo prodotto È una crema Corpo Viso E corpo Porta 300 ml Ed è questa Sempre la linea Aloe vera Della Sien Mi ha chiamato Tanto 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 L'attenzione Di questi prodotti C'erano altre cosette Di questa linea Ragazzi 300 ml Vediamo un po' Che dice In specifico Sien crema Corpo E viso Con aloe vera Olio di mandorle E burro di karité Quindi Aloe vera Olio di mandorle E burro di karité Nutre la pelle Lasciandola liscia E morbida Uso Applicare quotidianamente Sulla pelle Corpo O del viso E massaggiare Delicatamente Fino al completo Assorbimento Tolerabilità Cutanea Dermatologicamente Testata Qua non dice Specificamente Perché Per quale tipo Di pelle Però ovviamente Essendoci Al suo interno Aloe vera Olio di mandorle E burro di karité Andrà a idratare La pelle Adesso andiamo ad aprirla E vediamo un attimino Come Alla sua protezione Vedete E Andiamo a togliere Questo Vediamo se riesco Con le unghie Ecco qua La crema La crema come vedete È verde Perché poi Il barattolo È trasparente O quasi trasparente L'odore È lo stesso Odo più o meno Di tutti i prodotti Solo che questo Le nota un po' più L'odore A aloe vera Vediamo come è La consistenza Super rinfrescante È super rinfrescante Ragazze Per niente Appiccicoso No Per niente appiccicoso È il top Del top Al momento Una prima impressione Ovviamente E poi Non è che cade facilmente Qua tu devi mettere Proprio Mettere bene Il dito Per prendere La crema Non cade E quindi Questa starò pure Testandola Tutto questo mese Mi era finita La crema a corpo E ho detto Vediamo Cosa trovo Un attimo A Lidl Come crema a corpo Ho visto questa marca Sien da aloe vera E Mi ha chiamato tantissimo Mi ha chiamato tantissimo L'attenzione E ho deciso Assolutamente Di prenderlo Poi non vi ho spacchettato Questo Perché comunque Questo Questo prodotto Il sapone Il gel Intimo È un prodotto Che Li conoscono tutti No Questo di Di chili Non è niente Di nuovo Vabbè Ecco la formula Rinfrescante Era in sconto E niente Questo è tutto L'odore Vabbè L'odore è buono Vediamo come esce Ah è trasparente Bene Mi piace Allora c'è una cosa Ragazzi A me mi sarebbe Piacciuto Tantissimo Sarebbe fatto Sarebbe stato Un buon impatto Se La crema Mani Era con questa Consistenza Così E con questo Tipo di formula Proprio verde Verde Trasparente Secondo me Sarebbe stato Molto Molto buono Molto di buon Impatto Anche perché Comunque La crema Mani È all'aloe Vera Quindi questo Così Trasparente Era super Super Ottimo Comunque Nell'intimo Scilli Queste cose Qua Mi piace Mi piace Sembra tipo Menta È una menta Specificamente Formula fresca Teoricamente Testato La 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 Ah sì È arricchita Con mentolo Naturale È potenziata Con mole Con l'antiodore E efficace Contro il cattivo Odore Questa Stavo pure Provando Tutto questo Mese Niente Tutto questo Per il momento Grazie mille Per aver visto Il video Noi ci vediamo Nel prossimo Un bacino Ciao